Ho raccolto acqua di mare per togliere la muffa da casa mia, ma se non posso utilizzare la candeggina, cosa devo usare contro la muffa? Candeggina ipoclorito di sodio, sodio, sodio... Ciao sono Giuseppe e la Chiappamuffe, forse per secoli non ci siamo accorti che avevamo l'antimuffa più potente del mondo a portata di mano. Acqua di mare, tutorial per utilizzare l'acqua di mare come potente antimuffa a base di sodio al posto della candeggina. Munirsi di un bicchiere di plastica. Scegli il tuo angolo di mare vicino a uno scoglio e raccogli un bel bicchiere di acqua di mare e portalo a casa. Vantaggi sono molteplici, immagina di spruzzare acqua di mare sulle tue pareti in pieno inverno e sentire quell'odore di estate che ti rallegra per un attimo visto che hai la casa invasa di muffa. E poi ragazzi, acqua di mare 100% naturale, niente robaccia chimica puzzolente e pericolosa. E da quanto va detto chat GPT, il sodio contenuto nell'acqua di mare potrebbe persino aiutare a seccare e disidratare le spore di muffa. Cosa vuoi di più? Però attenzione, non basta qualsiasi corso d'acqua per prelevare il vostro antimuffa naturale a costo zero. Se vi trovate a Parigi in questi giorni e siete tentati di prelevare un campione di acqua dalla senna, i nostri tecnici non hanno ancora testato questa mistura che potrebbe anche contenere altre sostanze nutritive e pericolose per la vostra salute. Quindi non fatelo, basta utilizzare ipoclorito di sodio, raccogliete il sodio dall'acqua di mare ed eliminate la muffa. E secondo te quale sarà l'acqua di mare italiana migliore per eliminare la muffa? Ciao da Giuseppe e basta muffa! Ciao!